Pavia, il comune è a chilometri zero. Da diversi mesi al comune di Pavia c'è MediaWeb, un piccolo gruppo di dipendenti comunali che produce materiali audio-video in completa autonomia, a costo zero. Un'intervista, una mostra, uno spot per un evento da promuovere, qualche ripresa, subito al montaggio e il prodotto è servito in piazza e nel sito. Pronto per tutti, dal produttore al consumatore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS MediaWeb Pavia è filo diretto, multimedialità tra comune e cittadini. Provaci anche tu, ce la puoi fare!